Il 2019 è l'anno di Via Anelli. Sì, dopo il contatto, neanche mi sogno che non sia. Io penso che in primavera avremo, oltre l'acquisizione, anche abbattuto tutta Via Anelli. Ruspe entro la primavera in Via Anelli. È l'impegno che il sindaco Giordani si assume con tutta la città. L'abbattimento delle palazzine dell'ex complesso Serenissima, simbolo di spaccio, violenza e degrado, sono al centro di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana, inserito in un gioco a incastro. Nuova questura in Via Anelli, ex Casalma Prandina e il Comune. Il 28 dicembre la Giunta voterà la dichiarazione di progetto di pubblica utilità, dando il via alla procedura di esproprio, coinvolti piccoli proprietari, ma anche latter. Non è un gesto di nemicizia, è la legge che mi obbliga a fare questo, mi spiego meglio. Quando facciamo un esproprio non possiamo fare figli e figliasti, devono andarsi in mezzo a tutti. Ho parlato con l'assessore Lazzarin e ho detto, guarda, questo non è un gesto di nemicizia, è che devo farlo. Per cui dopo le vacanze terrobrema per sistemare anche la faccenda, chiarirci, fare un tavolo tecnico. 27 mila euro il valore dell'appartamento, 3 mila euro il garage, questo stabilisce il demanio e questo il Comune accantonerà per ogni appartamento espropriato. Sulla strada dell'abbattimento un problema concreto, due cabine Enel sotterranee che servono tutto il quartiere. Ho parlato l'altro ieri con l'Enel, bisogna che noi le spostiamo, le costruiamo noi a nostre spese, per cui faremo questo, per portare via un po' di tempo obiettivamente. Non sono centrali solo per via Enel, sono del quartiere per cui ovviamente non possiamo mica togliere l'energia elettrica. Delle spese si farà carico il Comune, spiega il Sindaco, che indica gli obiettivi. In autunno consegnare l'area bonificata al demanio per la questura e concentrarsi sul progetto Prandina Corso Milano.